Dalla Movida al rispetto della ZTL, a Benevento prosegue l'azione di controllo messa in campo dalla Polizia Municipale per verificare il rispetto dei divieti nel centro storico della città. Una task force ormai avviata da tempo con una serie di controlli soprattutto nei weekend, verifiche che riprenderanno nel fine settimana prossimo e proseguiranno per tutta la durata di città spettacolo ad annunciarlo il comandante Fioravante Bosco. La presenza di autovetture non autorizzate rende poco sicuro lo stazionamento dei giovani. Noi siamo stati molto precisi in questo periodo, abbiamo avuto ottimi risultati, continueremo, quindi già da venerdì e sabato siamo di nuovo su strada, lo faremo per tutta la settimana prossima fino alla fine della città spettacolo. Credo che sia importante, ripeto, contemperare la sicurezza dei cittadini e fare in modo che coloro che abitano in quella zona siano in tutta tranquillità. Intanto da questa mattina sono ripresi controlli per monitorare il rispetto della raccolta differenziata, controlli che da oggi saranno mirati anche a contrastare l'abbandono dei cani e il rispetto degli amici a quattro zampe. Lavoriamo sulla questione dei rifiuti, della differenziata, perché era in valso l'uso di non fare la differenziata in alcuni quartieri della città. Stamattina abbiamo iniziato il nuovo progetto per controllare l'abbandono dei cani, per controllare se sono microcippati, se stanno in una condizione di benessere, lo faremo tutte le mattine in servizio straordinario e in borghese.